L'hai trovato. Il futuro che il nostro popolo merita. Cosa c'è in quella scatola, secondo Janine? Non lo so, ma sta cercando fra i divergenti. Per trovare chi possa aprirla. Li voglio. Tutti, dal primo all'ultimo. Janine continuerà a darci la caccia. Dobbiamo combattere. Non siamo abbastanza. Lo saremo. Sono gli esclusi. È assurdo. Janine dice che siete pericolosi insurti. Se riusciamo a unire le forze, saremo inarrestabili. Via! Nessun altro morirà per colpa mia. Triss, aiutami! Mamma! Felice di rivederti. Cosa vuoi da lei? Sei il soggetto perfetto. Devi essere forte. Sei coraggiosa. È lei. È l'unica possibilità di salvare la civiltà rimasta. I tempi bui richiedono misure estreme. Cominciare. Non combatterò con te. Certo che no. Combatterai te stessa. Non combatterai tutti. Non combatterai. Cosa? Cosa vuoi da lei? стendo. Cosa vuoi? Non combattare. Non combattai. Non combattai tryggiarebbe. Non combattai. Non combattami травmi. Non combatt работать, ne vediamo. Non combattai. Non combattai. Non combattai. Non combatt Rei. Grazie a tutti.